Rivarolo, una bella cittadina, 12.000 abitanti e vedo tante signore, tante ragazze, è dovuto al fatto che è sabato oppure perché non hanno niente da fare? Noi siamo in ferie, quindi per noi... Da dove venite voi? Dalla Sicilia. Ah, addirittura, addirittura. Ebbè, si trova bene questi bellissimi posti? Bello, molto bello, sicuramente sì. Anche la Sicilia è tra i posti più belli al mondo. Decisamente, mancano tante altre cose però, qui avete più infrastrutture rispetto a noi. Ecco, dovesse dare un consiglio a noi qui in provincia di Torino, qui siamo a Rivarolo, 30 km da Torino, 12.000 abitanti, una bella cittadina. Dovesse dare un consiglio, consiglio, cioè, dovesse dare, esprimere delle idee per migliorare la qualità della vita di questa zona. Qui voi dovete portare il sole e il mare della Sicilia e poi va bene così. Grazie, buon proseguimento, arrivederci, buongiorno, buongiorno.